Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Si parla parecchio di Nixon in questo periodo, il presidente degli Stati Uniti costretto a dimettersi per lo scandalo Watergate che portò alla luce una specie di sistema di spionaggio e intercettazioni illegali usato dall'amministrazione Nixon appunto fino al tentativo di irruzione nella sede del Partito Democratico, avversario di Nixon a quel tempo, da parte di uomini collegati a questo presidente. Sono stati girati film e scritti libri su questo scandalo e su questo presidente, ma mi soffermerò su una cosa venuta alla luce di recente. Nixon si professava cristiano, quacchero per l'esattezza, e riceveva alla Casa Bianca importanti ministri di culto, sia cattolici che protestanti, per chiedere consigli sulla fede e ascoltare i loro sermoni in speciali occasioni. Secondo storici, nessuno di questi leader cristiani gli intimò di ravvedersi quando ormai erano chiari gli scandali di cui era protagonista. Nessuno tranne uno. Un giovane pastore protestante della chiesa presbiteriana di Key Biscayne ha rimasto fino ad oggi praticamente sconosciuto. John Huffman, questo è il suo nome, si ritrovò a fare l'aiutante pastore nel periodo in cui il presidente Nixon stringeva un'amicizia con un ricco banchiere che frequentava appunto quella chiesa. Perciò qualche volta il presidente si presentava in quella comunità e partecipava al culto. Lo fece anche quando lo scandalo ormai era scoppiato, i giornali non parlavano d'altro e lui era sotto i riflettori. Poco prima del culto, il famoso banchiere si avvicinò e afferrò il giovane pastore per il braccio ammonendolo di non osare parlare dello scandalo al presidente. C'era il presidente, avrebbe partecipato al culto e quindi il banchiere gli disse non ne devi parlare. Il pastore John si sentì messo all'angolo. Al momento del sermone invitò i presenti a prendere questo verso delle sacre scritture. Sentite. Il re, al quale parlo con franchezza, conosce queste cose perché sono persuaso che nessuna di esse gli è nascosta poiché esse non sono accadute in segreto. Atti 26-26. È una famosa frase di San Paolo mentre si difende di fronte al re Agrippa che spinse il re sulle difensive al punto da dirgli una cosa del tipo con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? In sostanza Paolo sta toccando le corde spirituali del re confrontandolo con la verità che salva. Per questo si mette sulle difensive. E questo fu l'intento del pastore John, rivolgendosi non solo a Nixon, ma a tutti i presenti, a tutti i membri della comunità. E quando poi ebbe occasione di trovarsi a quattro occhi con il presidente, il pastore John gli disse senza giri di parole, presidente, lei deve confessare, leggo testualmente, deve essere onesto con il popolo americano. A quanto pare quel sermone e quelle parole furono uno schiaffo che risvegliò Nixon e sicuramente insieme ad altre cose lo spinse a dimettersi. Il che mi ricorda il potere della parola di Dio predicata. Ma mi ha colpito anche cosa ha detto di recente il pastore John, ormai ottantenne, intervistato da un giornalista che ha riesumato la storia. Ha spiegato chiaramente che richiamare il ravvedimento il presidente degli Stati Uniti del Pulpito fu una tentazione fortissima, tanto quanto tacere e far finta di niente, perché per lui era chiaro che avrebbe guadagnato i suoi minuti di gloria e di celebrità se avesse bastonato il presidente degli Stati Uniti del Pulpito, se avesse usato quindi Nixon come obiettivo della predicazione. Ma non si fa questo. Non possiamo usare una persona come l'obiettivo della nostra predicazione. L'obiettivo della predicazione è il ravvedimento delle persone, è far conoscere la parola di Dio a tutta la comunità. Per questo dosò ogni parola finché il messaggio fosse per tutta la congregazione e non solo per una persona. E poi parlò faccia a faccia con l'uomo come si fa con un fratello in difficoltà, perché secondo le parole dell'anziano pastore John Hoffman, l'amore vince. L'amore vince, già, è più potente di tutti i potenti della terra. Dio vi benedica.